Salve a tutti ragazzi e con questo bello aereo di sottofondo vi do il benvenuto al secondo video di Warpest in the New Order Avevamo lasciato la partita con la guerra in trincea e con un cane morto e riprendiamo con la guerra in trincea e il cane morto Andiamo avanti Intanto, fatemi un attimino gestire qua Ok, andiamo, perfetto Intanto, apriamo le casse La pistola l'ho fatta vedere, sì Mi pare di sì Comunque, allora, teniamo un altro po' qui È figheggiante È vaffanculo, sì, non riesco a ammazzare Vaffanculo, però Vaffanculo Lasciatelo dire Questo No, ce l'aveva, l'avevamo già preso E dunque, dove bisogna andare di qua, per forza No, non l'avevo preso, l'avevamo già preso L'avevamo già preso, l'avevamo già preso No, le cose però si fanno un po' incacchiate Quindi direi di prendere anche Se no prendiamo un bel Thompson Che non c'ha un cazzo di munizioni Però mi piace un casino Che sarebbe, se non sbaglio Il Thompson in questo gioco L'equivalente della mitragliatrice leggera Della mitraglietta Oh merda, quanta gente che c'è Eeeh, sì Praticamente ho già finito le munizioni Di staffare Esatto L'ho finito, senza praticamente Morite Eh beh, sì Parole Parole sante Would never change Intanto non sono riuscito a fare la scivolata Eeeh, beh Uh, qui c'è da fare uccisione sterile Facciamo uccisione sterile Che Zaccazzam Trac È sblocato un talento Uno sca... Uh, doppia pistola Figo anche questo Aspetta che Ammazziamo il tizio qui Che spara a caso E poi guardiamo il talento Trac Prendiamoci L'ermate Prendiamoci No, il munizioni sono al massimo La granata è al massimo Capp Gradite un caffè indistruttibile? C'è Ce n'è un'abbondanza Ce n'è due Carte da gioco Verrà questa tazzina Si è mossa No, è l'impressione Guardiamo che cazzo era Il talento che ho sbloccato Ho sbloccato Ho sbloccato Furtività Uccidendo furtivamente I comandanti Aggiungerai punti di interesse Sulla mappa Mostra informazioni Sui comandanti E dunque La mappa La mappa La mappa M Che cosa sono questi Queste cose qua Questo penso sia un collezionabile Noi bisogna Boh, non lo so Vabbò, lo vediamo dopo eh Senti, ora non c'ho cuore Di stare a scervi E darmi qua Lo scopriremo Minchia Giocando Oh, altri comandanti No, non è che io Ci faccio le follie Per lo stealth Facciamo la stealth Vieni Facciamo la stealth Facciamo la stealth Adoro lo stealth Di questo gioco Ha sbloccato il talento Do che ricarica Guardiamolo che cos'è Questo Aumenta la velocità Di ricarica Con doppia arma Uccisione Con doppia arma 10 su 10 Oh, abbiamo fatto scaccia Intanto nei momenti Con i citati Cos'è ho già visto Che Un po' la ghicchia Ma perché appunto Vi ho detto Il motore grafico È pesante Poi Con anche fraps Acceso Le cose Non migliorano Però Però Cioè È giocabilissimo Non dà problemi Non dà fastidi Ho giocato a giochi Molto più Molto più scattosi Nonostante che la grafica Non sia pompata al massimo L'ho messa Al medio Mi pare E c'ho una 6 e 60 T Se non sbaglio Che Potrei anche sbagliare Conosco il mio computer Come le mie tasche Non ho idea Di cosa ci siano Le mie tasche Ah ma qui c'era Un Cosa da uccidere Non l'avevo vista In alto a destra Eccolo È molto veloce Ma le granate Non ce l'ho No Lo rifaccevano comodissimo C'è anche uno Che mi spara Come una unitagliatrice C'è vista Se No No Volevo fare un'uccisione Daldietro Stelton Mi sa che ci siamo Sputtanati Bellamente No Forse no Forse c'è Uh Te ti uccido così Muori Minchia Si è spappolato In 48 miliardi Di pezzettini Bello Venga a vedere Sono curioso No Guarda che figo Spero che YouTube Non mi censui Allora Prendiamo un po' Di rifornimonti Che cosa c'è Di là Uh Che di là Si vada No Aspetta È lì Il collezionabile È qui dentro Il collezionabile È qui È qui È qui O che sia qui dentro No Va boh Senti Sti cazzi Eh Facciamo così Non facciamo L'errore di clima Che sono morto Poi Stacchiamo Questa bellezza Dal trespolo E andiamo A uccidere I centri Un po' Che fosse questo Il punto interrogativo Non lo so No Era fuori Il punto interrogativo Eh Ah boh Non sono mai stato Un 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 Salve Eh Non sono mai stato Un granché Come Trovatore Di tesori Eh Vaffanculo Si Giochiamo Stelta Anche questa parte Oh merda Tutto dove spunti Morite Morite tutti Mori anche te Quanti siete Cazzo c'era Un raduno Lì dentro Tutti dalla stessa porta Siete usciti Brutti bestervi Ai menede Ai menede Intanto non ho ancora Trovato bombe Ma forse perché Non l'ho nemmeno cercata No Sarebbe Salve Pezzi di carne In giro Pezzi di carne E Dicevo Troviamo qualche bomba Non le droppano Amici Peccato Sarebbe piaciuto Facciamo Così Che questo C'ha altri 250 colpi Andiamo Uh Armatura Armatura Che è proprio qua Ah poi ho visto anche Una cosa bellina Ovvero L'illuminazione dinamica Fatta dal Surriscaldamento Dell'arma Ovvero Quando le canne Diventano incandescenti Eh Diciamo Percepisce anche Quella come Illuminazione dinamica Una cosa forse Un po' inutile Che appesantisce tutto Quando si spara In quest'arma Questa Però Devo dire che è carino Quando ti avvicini A qualcuno Vedi Non so Se si riesce a vedere Sulla colonna Ecco Che si vede bene Su questi cadaveri Che È proprio Diciamo La calcola in tempo reale Inutile E pesante Però Catico Devo dire Divertente Che è che Mi ha sparato Chi? Dove? Allora Abbiamo robe Ah Eccoti Ciao Vabbè Li troviamo C'è problema Allora Ci avviciniamo intanto A dove Ho smesso di giocare Da solo Diciamo Ovvero Merda Merda Muoio Cacca il culo Oh merda Sì Sono Sì 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 Sono morto D'altronde D'altronde Forse non è il caso Di usare Quell'arma Così Spianato Forse è meglio Andare un po' più caotico Con un'arma normale Nasconderci dietro qualche colonna No dove Non è ricominciato Allora Che cos'è Ah è questa No no Dicevo Un'arma nuova Così accade Ma sì Se vogliamo fare del male Forse Questa è la Tattica sbagliatissima Ci hanno visto? Eh 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 Sì Ci hanno visto Ma ne valsa la pena Ci vorrebbe un caricatore Un po' più caviente Ma fa culo Cioè io non c'ho granate E loro le tirano Come se non ci fossero Domani Usiamo l'arma singola L'arma ne facciamo un po' più Di precisione Mori Non so se è messo esattamente Dove prima Salve eh Ma ha visto L'intelligenza artificiale Di questo gioco Non sempre Cioè Quasi mai Però Cazzo a volte Fa un po' cadere le palle Questo l'altra volta Noo Che figata Questa l'altra volta Non l'avevo Non l'avevo proprio visto Ma vorremmo prima uccidere Quest'affare o no Eh Si giri Ragioniere Sono qua Boh Si giri Continui a girarsi Non No 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 Continui pure a girarsi Non mi vede Lei non mi sta vedendo Che bella botta Che ha fatto Ma si Che roba Aiuto Ecco Allora ragazzi Si Grazie Grazie E Dicevo Intanto Dammi l'elmetto Bravo No Non te non pulare l'elmetto Dammela a me Che stronzo Vaffanculo Rubatore del metti Che non sei altro Dicevo Prima ho smesso di giocare qua Quindi Da qui in avanti Per me È tutta novità Pertanto Io continuo a non riuscire A prendere gli elmetti Chi se li incula Chi li fa volare In culo alla miseria Vabbò È un bel gioco Che ero di bug Però è un bel gioco Cosa fanno Questi Affanbarabacci Ciccocco Te ci vette Su Comò Tiriamo questa Allora tiriamo anche questa E tiriamo anche questa Cioè voglio dire Ce ne sono tre Ne tiriamo una sola Ma che cazzo fanno Cioè non vi ho azzardato A ritornare su Vi ho tenuto giù Giù Guarda che sti merdi Secondo me è una sorta di Di enigma Di dovinello Tutto cosa dice qua Ersta milling Technologi Bella Sì tecnologia Vabbò Questi Fanculo Cazzo guardi Che cazzo guardi Uh Cazzo Dove cazzo erano questi Non li avevo visti Prima Ma vediamo allora Ma quanti cazzo siete Come se avessi Attivato un allarme Ma non l'ho Attivato l'allarme Porca miseria Eh però Le la mette Se non le sai usare Eh Mannaggia All'allergia C'ho rimasto tappato Scusate se sentito su ogni tanto Ma Il pollini Forse qualcuno di voi Mi comprenderà Questo è il metto Puzza Eh sì Ci sono vestibili sotto Puzza Non lo figlio Anche questo Puzza uguale Stessa identica cosa Eeeh Questo non puzza Mio Questo non puzza Mio Intanto questo Leva il braccino Mio Salve Oh merda Scusate ma Mentre mi sparano Ah Una bella stasata ci vuole Scusate Allora Uh Mi ha bloccato Occhio di falco Vediamo che cos'è Occhio di falco Aumenta i rani inflitti Dai colpi alla testa Tramite il mirino dell'arma Buono Quindi ora noi bisognerebbe fare un po' di cose Tipo Uccisioni con colpi alla testa Sovraccarica da salute raggiungendo il 100% Eh sì 200% Uccisioni da ripari Con le più Uccisioni da ripari Immagino che intenda sporgendosi Tipo Così Tipo Sì sì Ehm Munizioni vita E quant'altro Vedete la distruttibilità degli ambienti non è male Soprattutto perché Diciamo dove ci sono le coperture Lasciala Dove ci sono le coperture Caruccio Solde Buonasera Bene E che mi spare E' saltato in una fontana di sangue e di pezzi di carne Che belle cose La wolf esterna è sempre wolf esterna d'altronde Ma ce n'è degli altri Morite anche voi Boom Mi fa morire questa cosa Sembra un cartone animato splatter di quelli di no sense Intanto qui Mi ricordo che c'era qualcosa Io mi ricordo che qui c'era qualcosa Ho visto da qualche filmato Forse addirittura Quello degli sviluppatori Io mi ricordo che qui c'è qualcosa C'è qualcosa da apprendere Ah boh va fa culla Grazie Qui gente che è saltata in aria Infatti C'è un po' di munizioncine Andiamo Oh merda Al fanculo Vai via vai via Cami di merda Cami di merda Muori Furbo Chi non lo ha mai fatto con il proprio cane Una cosa del genere Bellissimo Bellissimo questa cosa Figa veramente figa Intanto aspetta un po' Che qui che si è aperta una porta Vole vedere che cazzo c'è Vita Munizioni No eh, cose vabbè, sì, c'era anche la munizione ma sono appena va buono affaccula va a morire la testa totalmente distrutta, aperta dai, vieni issami diciamo che dopo questo filmatino chiudo anche la registrazione ok mi chiede 17 minuti che registro alle nostre spalle abbiamo il pilastro dell'esercito tedesco imbocidico soldato Gates, signore a rapporto pazzo e motivaggio, benvenuto in guerra insacito ora il generale Ted Zed è più vicino di quanto a noi lo sia, ma è stato è una brutta ferite, signore fermaremo la città se eliminiamo il generale arginiamo la macchina bellica se falliamo ci mangeranno al colazione tutto ok ragazzo signore mi lacrimano gli occhi e mi sento male vuoi altri due schiaffi? dai dai dagli gli schiaffi allora dai ha perso punti questa volta andiamo muoversi via sei già stanco è una guerra non una passeggiata domenica una buona squadra madre figlia capitano capitan gates pensa prende un compito se faccio scalate questo punto entrate cercate la sala comanda di questa porta e aprirla eh che sempre che dico sì provate armi naziste prendetele meglio delle nostre noi altri vi coprieremo da qua giù vai aperta la porta entriamo saliamo all'interno della struttura e ci riuniamo ai piani altri troviamo Ted Zed e vi spariamo in fronte un compito facile ha detto ragazzi io direi che questo episodio può terminare qua come al solito se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento sub iscrivetevi al canale se lo volete supportare e se volete rimanere aggiornati sui miei video condividete il video con chi vi vuole bene e ci vediamo alla prossima puntata sempre con Wolfestay in the new order arrivederci ragazzi arrivederci mi raccomando anche voi compiti facili grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti